Amici, buongiorno. È appena terminata la manifestazione Sportivamente Insieme 2013 e siamo qui con Damiano Bramati, presidente della società sportiva OSPG, come vedete qua dalla maglietta. Damiano, dopo un lungo percorso organizzativo e tante fatiche, diciamo che è un buon risultato. È un ottimo risultato, la manifestazione è risultata proprio ben riuscita. Credo che tutti i partecipanti si siano divertiti e noi pure, che anche siamo stati dietro le quinte, quindi direi che tutto è andato perfettamente. Abbiamo visto un grande entusiasmo soprattutto dai ragazzi, dai ragazzi normodotati, ma anche dai ragazzi naturalmente, i principali attori, i ragazzi diversamente abili. Una coesione sociale che fa piacere a tutti. Sì, fa piacere anche perché la barriera del preconcetto è giusto che venga abbattuta, perché in realtà siamo tutti persone ugualmente di pari dignità e quindi è bello ritrovarsi in queste situazioni dove si riesce a vivere e divertirsi tutti insieme senza nessuna distinzione. Assolutamente. Seconda edizione che si svolge qui da voi, non c'è il 2 senza il 3. Ma sì, non c'è il 2 senza il 3. Noi saremo ben felici l'anno prossimo di riproporci per organizzare un'altra volta la manifestazione qui in oratorio, anche perché devo dire che nonostante la fatica tutto è risultato molto divertente e ci è piaciuto molto. Benissimo. Ringraziamo Damiano, ringraziamo tutti i ragazzi, ringraziamo l'oratorio e a questo punto a Sportivamente 2014. Esatto. Ciao. Ciao.